Buonasera, nell'antichità l'impero romano ha riunito in sé una quantità di territori enormi che andavano dall'Oceano Atlantico fino al mare Arabico, dal Mar Baltico fino in realtà al deserto africano. Questo ci può far pensare che gli antichi, i romani, i greci del periodo lenistico, avessero un senso dell'ecumene, un senso del mondo estremamente evoluto e sviluppato, non è così, del resto se noi leggiamo gli scritti dei geografi antichi come possono essere Claudio Tromeo oppure Plinio il Vecchio, abbiamo un'idea proprio diretta del fatto che loro in realtà hanno invece un'idea molto limitata del mondo, semplicemente l'idea geografica dell'ecumene, cioè dell'insieme del mondo semplicemente non interessa, del resto considerate che nel mondo antico non esiste quasi il concetto di viaggio, nessuno viaggiava nell'antichità, eppure a Roma si sarebbe potuto facilmente viaggiare, personaggi come Plinio il Vecchio avevano una cinquantina di ville, di residenze sparse un po' in tutto l'impero romano, ma lui stesso ammette che la maggior parte di queste ville lui in vita sua non ci è mai andato. In epoca romana nessuno viaggiava, non esiste il turismo, non esiste vado a fare un viaggio in Egitto oppure vado in Mesopotamia, non c'era questo concetto, chi viaggiava, viaggiava per lavoro o perché erano soldati, soldati che venivano mandati a combattere, a confine dell'impero romano, oppure erano mercanti che per lavoro e per mercanzia dovevano viaggiare nell'ambito dell'impero romano, ma era molto raro invece che si facesse un viaggio per conoscenza o per di porto, gli stessi imperatori romani che pure avrebbero potuto viaggiare non lo facevano, il concetto di viaggio non apparteneva al mondo antico e quindi che succede? Che la conoscenza che si aveva del mondo, era una conoscenza del mondo esterno, ma anche del mondo interno, era una conoscenza fondata soprattutto sui racconti, le dicerie, i prodotti che arrivavano. Pensate, è una curiosità giusto per cominciare ad affrontare il discorso di oggi, che a partire dall'epoca dell'imperatore Tiberio, quindi siamo dopo il 14 d.C., quindi siamo agli inizi del primo secolo d.C., comincia ad esserci una certa crisi economica e alcuni ben pensanti dell'epoca, personaggi come Tacito etc., lamentano il fatto che sta andando di moda a Roma e nell'impero, di moda vuole dire che non è che lo fa una persona, due persone, tre persone, lo fanno in tanti, va di moda per le donne indossare delle scarpe dorate, il problema è che queste scarpe dorate vengono prodotte solo in India e gli indiani vogliono essere pagati solo in oro e quindi Tacito lamenta di questa fuoriuscita di valuta pregiata aurea dell'impero, ottenendo in cambio scarpe da donna dorate. Quindi questo che cosa vuole dire? vuole dire che in realtà che esisteva l'India, che questa India produceva, non era una cosa che sapevano due o tre persone, c'era una moda di scarpe dorate, addirittura una statuetta d'avorio della dea Lakshmi, che è una dea indiana, è stata trovata in una casa di Pompei, questa casa sembra casa della statuetta indiana. Quindi cosa vuole dire? Che un po' tutti sapevano che c'era l'India, tutti sapevano che l'India era un luogo di ricchezza, di tesori eccetera, dall'India venivano pietre preziose importantissime, venivano i rubini, veniva l'avorio, venivano le stoffe, venivano le spezie, tutti sapevano che c'era l'India, ma quasi nessuno sapeva dove era l'India, quasi nessuno era in grado anche solo di poter dire l'India sta in quella direzione. Tutti questi luoghi erano luoghi di cui si aveva una percezione evidente e diretta, perché c'erano tante cose che venivano da lì, però non interessava nessuno sapere dove questi luoghi veramente erano, quanto erano lontani o come erano fatti. Tutto il mondo antico va avanti così. Le cose cambiano totalmente nel Medioevo, perché il Medioevo invece è l'era dei viaggi. Nel Medioevo tutti viaggiano, tutti, che poi sopravvivano ai viaggi è un altro paio di maniche, ma nel Medioevo tutti viaggiano, viaggiano per pellegrinaggio e il pellegrinaggio lo facevano sia i cristiani che i musulmani, tutti facevano il pellegrinaggio. Si viaggiava per evangelizzazione, si viaggiava per conoscenza, si viaggiava per lavoro, si viaggiava anche solo perché non c'era nient'altro da fare e c'era tutto un universo legato ai viaggi, c'erano in realtà i menestrelli che viaggiavano girando tutta l'Europa per suonare la chitarra, c'erano i frati cercatori che viaggiavano solo per andare a chiedere l'emosina, c'erano i soldati, c'erano i crociati, c'erano gli esploratori, il Medioevo è l'epoca dei viaggi e questo è curiosissimo perché la sicurezza di viaggiare nel Medioevo non era certamente quella che c'era stata in epoca romana, in epoca romana veramente si poteva viaggiare con sicurezza all'interno dell'impero, nel Medioevo questo non era possibile e quindi che succede? Incredibilmente l'uomo del Medioevo è più interessato al mondo lontano, al mondo al di fuori del suo di quanto non lo fossero gli antichi romani. Il fatto che fossero però interessati non vuole dire che di questo mondo si avesse una conoscenza enorme, perché in realtà quello che sapevano del mondo nel Medioevo era la stessa cosa di quello che si sapeva nell'antica Roma, anzi di meno, perché i mercanti nel Medioevo non attraversavano gli stessi spazi che si attraversava in epoca romana, oggi sappiamo con certezza che gli antichi romani commerciavano regolarmente con il Vietnam, con l'Indonesia, sono stati trovati materiali provenienti dell'impero romano addirittura nel Borneo, qua c'è OEA, un insediamento dove sono stati trovati materiali romani appunto in Vietnam, ma questo non vuole dire che c'erano dei romani che da Roma erano andati in Vietnam, significa solo che c'era una rete commerciale per cui i prodotti dell'impero andavano lì e i prodotti del Vietnam andavano a Roma, quindi si aveva una percezione di questo, nel Medioevo questo non succedeva più, però il ricordo che c'erano stati, che esistevano l'India, la terra dei Seres, cioè la Cina, oppure l'Africa centrale, noi sappiamo che esploratori romani erano arrivati quasi al golfo di Guinea, sappiamo che esploratori romani erano arrivati quasi fino alla Goettoria, in Italia, il ricordo di queste cose c'era, del resto basta che voi leggete il terzo libro della naturale storia di Plinio il Vecchio e si parla di questi luoghi, ma Plinio il Vecchio non c'era mai stato, ma questi scritti esistevano nel Medioevo, solo che nel Medioevo questa volontà di viaggiare fa venire la curiosità di dove stavano questi paesi e di come erano fatti, questa carta è una carta che nel Medioevo loro non conoscevano, non sapevano veramente che il mondo era così, sapevano che c'era l'Impero Orientale, che dopo l'Impero Orientale c'era la Persia, che dopo la Persia c'era l'India e che dopo l'India c'era la Cina, questo lo sapevano, quello che non potevano immaginare era che questa distanza dal confine dell'Impero Orientale alla Cina era enormemente maggiore di quella che era da Roma al confine orientale, pensavano che il mondo fosse soprattutto qui e che questa fosse la periferia del mondo, quindi che quando invece materialmente cominceranno a viaggiare si renderanno conto che queste distanze erano in mani, veramente in mani, ma soprattutto poi la grande sorpresa che avranno è che queste distanze in mani erano distanze molto diverse dalle nostre e non so quanti di voi hanno viaggiato in certi luoghi, ma tuttora noi viaggiando in quei luoghi ci rimaniamo sorpresi di certe cose, io sono partito stamattina da Roma, sono arrivato qui e passando con il treno era un continuo di case, paesi, gente che abita, quindi è una continuità, continuo ad abitare, qualche anno fa sono andato in Kazakistan, quindi qui sopra, sono sceso con l'aeroporto in un luogo, poi dice andiamo alla città più vicina e abbiamo fatto 400 chilometri dove c'era solo prato, non foresta, prato, 400 chilometri di prato, dove non c'è a vista d'occhio neanche una casa o un albero, questa cosa che sorprende noi quanto più sorprendeva loro, abituati a un mondo densamente popolato che è quello del Mediterraneo, quindi il Medioevo si pasce di queste sorprese, soprattutto perché da qui, cioè dalla Persia e dall'India continuano ad arrivare continuamente prodotti, continuamente, perché certe cose, certi prodotti non hanno mai smesso di arrivare, le spezie, le stoffe, le pietre preziose, nonostante l'impero romano è caduto, nonostante c'è stata l'invasione degli arabi, continuavano ad arrivare, le perle se voi guardate i reliquiari o gioielli delle chiese, dei monasteri, sono tempestati di perle e le perle sono sempre venute dall'antica Roma fino a tutto il Medioevo dal mare arabico, cioè da qui e i mercanti di perle hanno continuato a mandare perle nonostante l'impero romano non ci fosse più, quindi le questioni politiche non hanno interrotto questa storia, quindi che vuole dire? Che la gente continuava a vedere queste incredibili ricchezze che venivano dall'India, non avevano le idee chiare, non capivano la differenza che c'è tra l'India, la Cina e la Persia, anche perché c'era tanta gente che non voleva che si capisse, cioè tutte quante le popolazioni dell'Europa medievale non sapevano veramente dove stavano questi posti e che cosa veramente producevano, semplicemente ricevevano i prodotti nei mercati e questo arriverà ad alimentare delle leggende, delle storie strane, per esempio alcuni tipi di frutti venivano dalla Cina, però non è che c'erano i cinesi che le vendevano agli europei, i cinesi le vendevano agli indiani, gli indiani le vendevano ai persiani e i persiani le vendevano agli europei, quindi gli europei pensavano che questi frutti venissero dalla Persia, e quindi l'hanno chiamato le persiche, ma le persiche vengono dalla Cina, non vengono dalla Persia, solo che a noi arrivavano dalla Persia, oppure il foraggio per gli animali veniva dalla Siberia, dalla Tartaria, da nord, ma questo foraggio venne mandato agli indiani, che lo vendevano agli afghani, che lo vendevano ai persiani e che lo vendevano agli europei, per cui pensando che venissero dalla media, cioè dalla Persia, la media, viene chiamata erba medica, ma l'erba medica vi è dalla Siberia, non vi è dalla Persia, in Persia c'è il deserto e questo vale per un'infinità di prodotti, però quello che è certo è che arrivavano tutti questi prodotti così straordinari, che nasce un concetto di meraviglia, l'India è il luogo delle meraviglie, la Cina è il luogo delle meraviglie, perché era un luogo dove semplicemente nessuno andava, è chiaro? Veramente nessuno andava, probabilmente non ci è andato mai neanche Marco Polo, secondo gli ultimi studi, ci racconta un sacco di stupidaggini Marco Polo, il fatto è che c'era appunto questo mito incredibile di queste ricchezze straordinarie, per cui loro non sapevano che il mondo era fatto così, loro pensavano che il mondo fosse fatto così, questa è la pianta di Hebdorf, è uno dei mappamondi più antichi che si conoscono, siamo intorno al XII secolo, per cui vedete c'è l'area del Mediterraneo che è questa parte che vedete qui, questa che vedete qua per intenderci, questa è l'Italia, questa è la Sicilia, questa è la Sardegna, questo è lo stretto di Gibilterra, quindi si entra qui, questa è l'Africa, questa è l'Europa, nel centro c'è Gerusalemme e qui giù, in questa parte lontanissima in fondo c'è appunto l'Estremo Oriente, l'India e la Cina, anzi la Persia, l'India e la Cina, ma poiché non si aveva la percezione vera di tutto questo come era messo, gli europei cosa facevano? Parlando di queste popolazioni le chiamano genericamente i Tartari, chiamando Tartari tutti, perché non avevano idea di come erano divisi, tutti questi popoli che erano lontani dal mondo conosciuto e civilizzato erano chiamati i Tartari, in realtà noi sappiamo che c'è un'enorme differenza tra i persiani, gli indiani e i cinesi, ma loro che non avevano questa idea, questa concezione di destra, su cui le accumulavano tutte e parlavano di queste terre misteriose che c'erano appunto in Oriente, soprattutto in Persia e in India, i concetti, l'idea che se ne aveva era un'idea straordinaria, perché ovviamente da lì si vedono arrivare dei prodotti enormi, questo è un dettaglio della carta e ad esempio questa è la zona della Mesopotamia, questo per intenderci è il Tigri e questa è l'Eufrate, questa è la zona di Babilonia dove ovviamente è messa la torre di Babele, questa, poi questa è la zona dell'India, anzi questa qui in particolare la Persia con gli animali selvaggi, questa zona qui era l'India, questo qui è il fiume Gange, questo è il fiume Indo e questo è l'estremo Oriente e cosa facendo loro? Collocavano in questi luoghi, tanto nessuno poteva smentirli, tutti i luoghi mitici, luoghi magari che erano nominati dalla Bibbia o che erano nominati dalle leggende, della mitologia antica, questo qui è il monte Ararat su cui si è fermata l'arca di Noè, questa è l'arca di Noè, questa qui appunto è l'area della Mesopotamia, vedete? Mesopotamia, quindi questi erano appunto la torre di Babele, questa qui davanti è la città di Babilonia, questa è la zona del Golfo Persico, vedete? Sinus, cioè Golfo Persicus e questa appunto è la zona della Persia e loro cosa immaginavano? Quante domande rimaste insolute la storia ci mette, loro non le lasciavano insolute e le collocavano lì, tipo dove che fine hanno fatto i Re Magi quando sono ripartiti? A noi ci apporta niente, sul Vangelo non ci apporta niente, il Vangelo non ci dice neanche come si chiamavano i Re Magi, loro invece no, i Re Magi non solo erano ripartiti, ma erano tornati a casa loro e dove erano le case loro? Qui, perché qui c'era la casa del mago Balthasar, qui c'era la casa del mago invece Melchior, loro le collocavano perché volevano avere una geografia chiara del mondo e loro tutti che ne so, il posto dove Alessandro Magno si è affermato? Sì, c'era qui giù in India un altare, una pietra su cui c'era scritto qui si è affermato Alessandro Magno e nel posto dove Alessandro Magno si è affermato era il luogo dove nasceva l'Araba Fenice, una serie di miti che loro collocavano per avere un concetto di una geografia ben definita e ovviamente che succede? Che quelle pochissime, veramente pochissime persone che per lavoro o per problematiche commerciali arrivavano, non dico qua giù, ma arrivavano magari partendo dall'Europa, arrivavano qui per darsi molto tono, tornavano e raccontavano cose ancora più incredibili, questo fomentava una conoscenza del mondo antico orientale fantastica, una conoscenza della Persia o dell'India come di paesi dove c'era una ricchezza sconfinata, dove in realtà c'erano le donne più belle del mondo, dove c'erano i sovrani più ricchi e potenti del mondo, questa era l'idea che arrivava dell'India, della Persia e della Cina. Quello che è interessante è che se noi andiamo a vedere contemporaneamente le fonti della letteratura indiana o cinese, ci dice che le donne più belle del mondo, gli uomini più ricchi del mondo, le case con i tetti d'oro, stavano qua, è sempre negli altri posti si sta sempre meglio, stanno sempre ricchi, più belli e così via, quindi ovviamente se noi andiamo a vedere ognuno di questi paesi fomentava una letteratura così, c'era un mercante che si chiamava Maestitianus che forse era un persiano, che va in India e si spaccia per romano, in Cina dice che Roma era una città dove c'erano tutti i tetti delle case d'oro massiccio, del resto ovviamente queste persone millantando tutto questo ottengono una certa fama nel luogo dove vanno, un po' come ha fatto Marco Polo, esattamente la stessa cosa e quindi vengono alimentate queste storie fantastiche. Si parla poi di popoli straordinari, perché? Perché sono popoli che nessuno vedeva, erano popoli particolari e per esempio si parlava del fatto che in Persia vivevano i Cinocefali o Cinammoni, un popolo in realtà che aveva la testa di cane e che erano in realtà una popolazione che era originaria di una città che in realtà stava sul Mar Nero che si chiamava Cinocefali, che vuol dire appunto con la testa di cane. In realtà nessuno arrivava veramente a conoscere qualcuno così, però se uno tornava ed era l'unico che voi si potevate, era andato in quella zona e diceva io ho visto gli uomini con la testa di cane, chi è che poteva mettere in discussione quello che lui diceva? Quello che è certo è che questa geografia fantastica alimentava veramente una visione dell'Oriente veramente meravigliosa, di gente che non moriva mai, luoghi dove appunto, questo è un particolare del cosiddetto mappamondo borgiano, è un mappamondo fatto da Papa Alessandro VI Borgia cioè fine 1400, l'altro ieri, rinascimento, non siamo nel Medioevo, eppure guardate, questa appunto è la visione dell'Estremo Oriente e in questa immagine vedete qui si parla appunto che c'era il luogo da cui erano partiti i re magi, ecco il qua, vedete? Che erano partiti dalla terra di Tartaria, questi che vedete qui sono i tigri e le ufrate, ecco la decidura Mesopotamia e quindi questa è la Persia e nella Persia c'erano il luogo da cui le montagne dove nascevano i draghi, vedete? Eccoli qui, adesso andiamo a leggere le scritte, allora qui appunto si dice i luoghi dove si è spinto, fin dove è arrivato Alessandro e andiamo a vedere luoghi dove si dice che nascono i mostri o ci sono luoghi di alberi magici come questi che vedete qui e troviamo anche cose particolari, per esempio se questa è la Mesopotamia, questa è l'India, questa e qui troviamo in piena India troviamo una chiesa, una chiesa in piena India, nessuno all'epoca era andato in India, sì ma a un certo punto nel Vangelo si dice che Gesù chiama gli Apostoli e quando appare loro dopo la direzione li manda nelle varie parti del mondo, li sparge nel mondo e allora dice, vi pare che alcuni Apostoli non sono andati anche in India e quindi chi c'è andato? Taddeo, secondo altri Tommaso, Taddeo sarebbe andato in Persia, Tommaso sarebbe andato invece in India e questi Apostoli avrebbero evangelizzato, ora in realtà che in Estremo Oriente c'erano dei cristiani, questo è verissimo, noi sappiamo che in Cina, in tempi non sospetti, in Cina intorno all'anno 1000, forse addirittura prima dell'anno 1000, c'era una grande comunità cristiana, una comunità di nestoriani, perché? Perché il messaggio cristiano avanza da solo, avanza anche senza qualcuno che materialmente lo porta, se sono io che vado in un posto, faccio una conferenza, parlo del messaggio cristiano, poi non so voi di dove siete, la maggior parte di voi sarete di Ancona, magari c'è qualcuno che è di Castelfidardo, qualcuno di Macerata, qualcuno e da lì è quello che ho detto qui, lo porta lì, ma lo porta a modo suo ovviamente, raccontando le cose a modo suo e lo racconta qualcuno che a sua volta le racconta un altro, per cui noi sappiamo che c'erano dei gruppi cristiani in piena Cina, che proprio seguivano un'eresia, l'eresia nestoriana, ma di questo poi ne parleremo la prossima volta, quello che è certo è che questi cristiani ci sono e quindi spesso accadeva che dei mercanti andassero magari in Cina, magari via mare e scoprivano che c'erano comunità cristiane e tornando in Europa raccontavano di questi gruppi cristiani e guarda caso questi gruppi cristiani in base ai racconti di questi mercanti veneravano un cristianesimo diverso o magari possedevano delle reliquie santissime, reliquie che venivano comprate a peso d'oro e venivano portate in Occidente, quindi si alimenta una conoscenza sempre più particolare, sempre più strana di queste ideologie del mondo e soprattutto poi si era arrivato a un punto in cui si vedeva che c'era veramente un mondo molto diverso, soprattutto zone in cui non esistevano i cristiani ed erano invece popoli ancora pagani, perché quando si entrava a contatto con i musulmani, quello è il minimo, l'abbiamo visto un'altra volta, i musulmani in molti casi erano a strettissimo contatto con i cristiani, ma i musulmani erano comunque una religione del libro, cioè veneravano lo stesso Dio, avevano un profeta diverso, ma veneravano lo stesso Dio, è sempre il Dio dei cristiani. Però poi superati i musulmani, i musulmani magari della Persia, ci si incontrava con dei popoli che erano di una religione che in Europa non conoscevano, per esempio l'induismo o il buddismo o le religioni animistiche dell'Asia centrale e allora si era pensato che sull'orlo della Persia, che era considerato l'ultimo paese musulmano, quindi certamente in una religione diversa, ma ancora civile, sull'orlo della Persia esistessero una terra malvagia, quella terra che nella Bibbia è indicata come Gog e Magog, una terra dove il male era connaturato, la terra di Satana dove l'evangelizzazione non era arrivata, dove il messaggio di Cristo non era arrivato, ma non era arrivato non perché Cristo non l'avesse inviato, ma perché era stato rifiutato e quindi un luogo dove il messaggio di Cristo è stato rifiutato non può che essere il luogo del male. Ed è quello che sull'orlo della Persia, dove praticamente oggi comincia l'asse centrale, quindi il Turkmenistan, il Kazakistan, quelle parti lì, c'era la terra di Gog e Magog e si diceva che i persiani avevano un grande merito, i persiani che pure erano musulmani, già poco dopo la fine degli imperi, dell'impero romano, dell'impero persiano etc., avevano asservito, soggiogato alcuni gruppi di demoni, come vedete in questa bellissima miniatura persiana che vedete qui, e questi demoni erano stati obbligati dai persiani, qua, eccoli qui, a costruire una barriera, un po' come quando vi ricordate Trump voleva usare i messicani per fare un muro che dividesse il Messico dagli Stati Uniti, la stessa cosa era venuto qua, i persiani avevano creato un baluardo, come mai i demoni non dilagano in Europa? Perché in realtà i demoni di Gog e Magog vengono fermati dai persiani, eccoli qui, e quindi guardate, questi demoni obbligati a scavare un fossato, sono imprigionati, vedete che hanno praticamente dei bracciali, hanno delle catene, così, sono imprigionati e costretti a scavare un fossato, quindi il mondo persiano, questa era l'idea che c'era nel Medioevo, fermava questi demoni e c'è da dire che i persiani un po' ci giocavano su questo fatto, a loro feceva comodo, perché potevano commercializzare con i paesi europei presentandosi come i difensori della cultura, della civiltà e tra l'altro i persiani dell'epoca erano persone che si sentivano fortemente eredi dell'antichità, nella fatta di specie i persiani, ma addirittura gli afghani si definivano i diretti discendenti dei macedoni di Alessandro Romagno, noi oggi questa cosa quasi non ci appartiene, ma faccio un attimino un riferimento per farvi capire, pensate alla guerra in Afghanistan, da una parte ci sono i talebani, i talebani si riconoscono facilmente, hanno il turbante in testa, il turbante è il simbolo dell'Islam radicale, contro chi combattono i talebani? Combattono contro quei gruppi che stanno sulle montagne, che sono i gruppi in realtà dei grandi gruppi di tribù, di famiglie dell'Afghanistan, che in testa portano quel particolare cappello di lana, quello si chiama il posok, quel cappello di lana i talebani mica ce l'hanno in testa, ce l'hanno solamente quei gruppi lì, i gruppi cioè delle montagne, perché? Perché quel cappello è il simbolo dei discendenti di Alessandro Magno, perché tutti quei gruppi di afghani si sentono discendenti dei macedoni che combattono contro i talebani, che sono le forze negative del male, quel cappello di lana è veramente un cappello che usavano gli antichi soldati di Alessandro Magno, noi abbiamo diversi affreschi di soldati macedoni, addirittura anche Alessandro Magno portava quel cappello lì, quindi loro stessi ancora si sentono una barriera del mondo civile e dalla stessa cosa che facevano i persiani, i persiani erano i difensori del mondo civilizzato che andava da loro fino al Mediterraneo e questa cosa ovviamente aveva creato un grosso collegamento culturale con la Persia e c'è un libro bellissimo che è uno forse dei libri più interessanti da leggere per la cultura medievale, tra poco ne parleremo, che è lo Shahnameh. Intanto per farvi capire quanto la Persia è fortemente legata al mondo occidentale, a noi in quel momento medievale, se voi andate a Venezia ed entrate nella Basilica di San Marco e andate a visitare il tesoro di San Marco, vi rendete conto che moltissimo materiale del tesoro di San Marco viene proprio dalla Persia, ad esempio nel tesoro di San Marco c'è una cosa enorme, straordinaria che nessuno vede mai e che purtroppo da noi è anche poco pubblicizzata, ma che gli iraniani farebbero chissà cosa per avere, che è questo vaso che vedete qua, è forse una delle cose più insulse del tesoro di San Marco, è un vaso che è grande così, è fatto di granito, quindi di pietra, ma ha una particolarità, cioè un'iscrizione in cuneiforme riportato qui sopra, che dice che cos'è questo vaso? È niente meno che l'urna cineraria di Artaserze, Artaserze è un imperatore a Chemenide, persiano, il figlio di Serze, quello per intenderci che ha attaccato la Grecia, i persiani chissà cosa darebbero per averlo, è l'unico elemento, anche se dentro è vuoto, non ci sono più le ceneri, l'unica tomba urna di un antico imperatore persiano, se voi andate nella Basilica di San Marco a Venezia, sta buttato in un angolo del museo, per loro è importantissimo invece, perché sta a Venezia? Perché in realtà indicava il fatto che Venezia si presenta come erede dell'impero orientale, dell'impero Romeo e l'impero Romeo ha sconfitto i Sasanidi che erano eredi dei parti, che erano eredi degli antichi persiani, allora il fatto che a Venezia c'è la tomba di Artaserze indica che in realtà i veneziani si sono impossessati del corpo di un antico imperatore persiano, ma da noi non conta niente, è dimenticato, è chiaro? Questo fa capire quanto invece era forte, era presente questo elemento, addirittura pensate, i tesori di moltissime abbazie, di moltissime diocesi, tra cui il tesoro di San Marco, ma anche il tesoro di San Pietro in Vaticano, ma anche il tesoro di tante abbazie e diocesi nell'Europa, ha tanti piatti d'argento, questi, adesso stanno in alcuni musei, questo sta a Roma nel Museo dell'Arto Orientale, ma prima è del tesoro di San Pietro, quest'altro sta a Parigi in realtà, questi piatti rappresentano dei re persiani, dei re sasanidi e pensate che questi piatti erano utilizzati come patene liturgiche, cioè come piatti per la consacrazione del pane durante la messa, la maggior parte degli arredi sacri usati nelle chiese medievali venivano dalla Persia, perché era argento puro, erano oggetti bellissimi ed erano considerati una sorta di omaggio che veniva dai confini del mondo, in Europa ne abbiamo una cinquantina di questi piatti, tutti che provengono appunto da monasteri, abbazie, etc., ed erano portati dai pellegrini, ed erano presi dai soldati durante le crociate, durante le spedizioni che vennero fatti in Oriente, fatto sta che questo legame era fortissimo e noi abbiamo in realtà, questa è la miniatura che rappresenta appunto un sovrano persiano dell'XI secolo, quando lì c'erano diverse dinastie, diverse stirpi che noi sentiamo lontane, ma che in realtà non lo erano lontane, questi sovrani avevano rapporti costanti con alcune monarchie europee a cui mandavano prodotti e da cui prendevano prodotti, solo che poi al di là di questi che sono gli apparenti legami, si faceva in modo che i popoli rimanessero distinti, noi non sapevamo che in realtà c'era un grosso legame diplomatico con l'Oriente e i persiani si sentivano nostri grandi fratelli, questo perché? Perché i persiani non sono arabi, i persiani sono indoeuropei, sono ariani, essendo indoeuropei la lingua persiana è una lingua che ha dei tratti comuni con le lingue europee, anche fisicamente i persiani sono come noi e questa comunanza era molto sentita nel Medioevo, tanto che alcuni poemi cavallereschi tipo per esempio Guerin Meschino, Guerin Meschino questo eroe cavaliere dei poemi cavallereschi sposa una principessa persiana, spesso nelle leggende, si parla di questi principi o principesse persiane che si uniscono in matrimonio con principi o principesse europee, tante storie, favole, racconti parlano di questo e per esempio uno dei testi più illuminanti che sto dicendo per questo è lo Shachanamè, lo Shachanamè è un poema epico veramente straordinario, noi purtroppo a Stucuola non lo studiamo, noi studiamo solamente l'Elia dell'Odissea, certe cose come non ci appartenessero, lo Shachanamè è un'opera bellissima, questa è una miniatura che è proprio derivante dello Shachanamè dove si vede l'autore dello Shachanamè che è Firdusi, un grande poeta persiano che vedete qui, eccolo, questo è Firdusi, che sta consegnando il testo dello Shachanamè, lo sta consegnando al re di Persia, al soprano di Persia, in realtà questo soprano si chiamava Ormuzd, era un soprano sasanide, questa cosa, questo evento, un evento importantissimo, siamo nell'ambito del VII secolo e è stato scritto appunto lo suo libro, lo Shachanamè, che vuole dire Shachanamè? Shachanamè significa il libro dei re, e cosa racconta lo Shachanamè? Racconta in realtà che questi re persiani sono discendenti di Alessandro Magno e che Alessandro Magno è discendente di Ercole e che Ercole è discendente di Zeus, in altri termini si abbliscono una linea di sequenza tra la mitologia greca antica e la politica e la storia ellenistica e la storia anche poi persiana e parla poi, addirittura si arriva a nominare anche gli imperatori medievali e si parla anche poi alla fine, si fa l'elenco di tutti quanti questi re mitologici o storici della Persia e lo Shachanamè è un testo la cui vicenda, il cui racconto in parte arriva in Europa e non fa che aumentare, fomentare questa storia della ricchezza, della bellezza e dell'eroismo dei persiani. Per cui fioriscono tutta una serie di storie, di favole e la Persia è indicato come un posto splendido e tante forme culturali arrivano in questo punto della Persia, per esempio il giardino, il concetto di giardino è un concetto che non esiste nel mondo antico, mi fa ridere a volte si dice i grandi orti dell'antica Roma, gli orti dell'antica Roma sono fatti tutti di marmo, tutto marmo e statue, poi c'era qualche pianta, non c'è il concetto del giardino, invece nel mondo persiano fiorisce il concetto del giardino, le erba, i fiori, la bellezza dei fiori, l'uso di donare fiori viene dal mondo persiano, tra l'altro in persiano giardino si dice Pardis, che vuole dire paradiso, il paradiso è un'idea di derivazione persiana, per cui quando nel Medioevo ho cominciato a trovare a Granada gli orti del Generalife o i giardini delle Abbazie o i giardini per esempio dei grandi castelli, è un tentativo di portare, di estendere il concetto del giardino persiano, pensate nell'antica Roma gli unici fiori che erano conosciuti erano praticamente le rose o le margherite dei campi, tutti i fiori che noi oggi conosciamo vengono tutti quanti dalla Persia, dal geranio al giglio, al gerbere, tutti i fiori che oggi conosciamo e che abbiamo domato e che usiamo nei nostri giardini o comunque li conosciamo vengono dalla Persia, perché altrimenti nell'antica Roma oltre alla rosa la conoscevano e la margherita, la rosa canina o la balausta, il fiore del melograno, quelle infiorescenze che sono fortemente limitate nel tempo, perché fioriscono quel mese, l'anno e basta, è chiaro? Quello che hanno domato i fiori, per cui in ogni stagione ci sono dei fiori e il mondo persiano e quindi arrivavano da noi in Oriente, in Occidente, scusate, queste miniature prodotte in Persia di questi bellissimi giardini e quindi questo fomentava il pensiero, fomentava l'idea di questi fantastici immagini, vita di corte, vita bellissima, questa è un'altra pagina dello Chakramè che fa vedere la corte persiana nel X secolo, mamma mia, noi non sapevamo neanche dove stava di casa questa cosa, se noi potessimo vedere la corte di Carlo Magno, ci avrebbero i brividi a vedere la corte di Carlo Magno, perché c'erano questi palazzi scuri con la gente, questi sovrani franchi o burgundi o sassoni che subriacavano, che ruttavano, che buttavano le cose per terra, i cani che giravano in mezzo ai tavoli, una cosa terrificante, erano le corte europee del Medioevo, laddove invece in Oriente c'era la musica, l'unica musica che noi avevamo in Occidente era la musica sacra, i canti gregoliani o il canto beneventano, non esisteva il canto puramente bello a sentirsi e perché è la poesia, noi rendete conto che per avere delle poesie, una lirica amorosa deve aspettare Petrarca, ma siamo i poeti siciliani del 1200 che guarda caso stanno così con la cultura araba, ma che esistevano poesie amorose nel X secolo, nel IX secolo? La poesia era tutta poesia religiosa, erano canti liturgici, laddove invece noi in Oriente, in Persia c'erano poeti come Afef, come Firdusi, poeti straordinari che in realtà facevano poesia amorosa, incredibile se leggete la poesia di Afez, Afez è un poeta bellissimo, se vi capita consiglio, esistono diverse traduzioni italiane, provate a leggere le poesie di Afez, è un poeta medievale persiano, molto particolare perché era un poeta che amava in modo particolare il vino, curioso perché presso i musulmani il vino non potrebbe essere bevuto, lui però infatti lo dice che lui praticamente non è un buon musulmano perché beve sempre e fa tante poesie dedicate al vino, ma in realtà non sono poesie espressivamente connesse a esaltare il vino, il vino è una sorta di tramite mistico per esperimenti dei concetti poetici e queste erano le corti persiane che c'erano, corti dove c'era gente che suonava, che recitava poesie, che danzava, una bellezza straordinaria, immaginate quando arrivavano queste miniature nelle nostre corti, mamma mia, c'è un libro, a me piace a volte consigliare dei libri, che si intitola, si riferisce a un momento diverso, storici arabi delle crociate e l'episodio, la vicenda delle crociate è raccontata da alcuni storici arabi e ci sono alcuni storici, alcuni arabi che rimangono esterifatti quando incontrano i capi crociati, personaggi come Boemondo di Taranto oppure Ruggero di Sicilia e rimangono esterifatti perché loro che si aspettano di vedere dei grandi re vestiti magari in abiti sono tuosi, uomini di grande cultura, rimangono esterifatti nel vedere personaggi raccapriccianti, personaggi di una maleducazione incredibile, arroganti, stupidi, gretti, ignoranti, quindi sono cose che in parte ci colpiscono, soprattutto perché il mondo orientale era un mondo straordinario, chiaramente non tutti i mondi erano così, ma la Persia era così, è chiaro? Le miniature persiane dell'epoca ci descrivono queste immagini veramente straordinarie, una ricchezza veramente sconfinata, tra l'altro e noi ne siamo testimoni in modo diretto, la Persia è un posto dove l'Islam ha letteralmente fallito, in altri paesi del mondo l'Islam ha attecchito fortemente, la Persia che si è rappresentata come un paese islamico, di fatto ha un governo islamico, ma la popolazione non lo è, quindi la Persia è la manifestazione del fallimento, della diffusione dell'Islam, perché la Persia di fatto mantiene una sua identità, è chiaro? Che questa identità, per esempio molta della matematica che noi conosciamo, dell'astronomia che noi conosciamo non viene dagli arabi, viene dai persiani, poi gli arabi l'hanno mutuata verso di noi, quindi questo veramente ci dà questa straordinarietà. A un certo punto succede qualcosa di particolare nella cultura occidentale, perché? Questo mito della Persia, dell'India, di questi cristiani che sono persi da qualche parte di giù, a qualcuno fa comodo e questo innesca uno dei più grandi misteri della storia medievale. Cosa succede infatti? Siamo praticamente nel XI secolo, poco dopo l'anno 1000, si è verificata la prima crociata, ma ci sono anche tutta una serie di vicende legate alla crociata. A un certo punto arriva una lettera anonima, o meglio una lettera che non si sa chi la porta, chi l'ha portata, questa lettera arriva alla corte dell'imperatore romano d'Oriente, diciamo dell'imperatore bizantino. Questa lettera è firmata da un fantomatico prete Gianni, Presbiter Ioannes, o meglio ancora Giannes. In questa lettera questo personaggio, prete Gianni, si presenta dicendo Io sono il re di un enorme regno cristiano dopo la Tartaria, cioè dopo la terra dei Tartari. nel mio regno sono prodotti oro e argento e ci sono fiumi fatti di latte e tempestati di pietre preziose. Ogni giorno mi servono a tavola come camerieri sette re, cinquanta duchi e 72 conti. Io sono il signore dei cristiani d'Oriente. Arriva questa lettera. Ovviamente in una situazione dell'Europa dove ci sono le crociate, dove ci sono diversi squilibri, l'idea che esista un regno cristiano enorme in Oriente alle spalle degli arabi e dei musulmani accende le speranze di molti che pensano che vale la pena intraprendere quindi grandi spedizioni contro i musulmani d'Oriente sconfidando nel sostegno, nell'appoggio continuo e improvviso di questo famigerato prete Gianni. Quello che è incredibile è che a un certo punto queste lettere cominciano ad arrivarne altre, tanto che questa miniatura rappresenta questo famigerato prete Gianni che dà queste lettere da consegnare ai sovrani. Una lettera è arrivata al Papa, una lettera è arrivata all'imperatore del Sacro Romano Impero. Ovviamente questi personaggi vengono spinti a fare operazioni, imprese militari perché confidano nel sostegno di questo famoso prete Gianni che sarebbe signore della Persia o della Tartaria ed è appunto un grande imperatore cristiano. Sta di fatto che queste meraviglie spingono tantissimi studiosi ad occuparsi, ad appassionarsi di questo, per cui vengono messi dei libri come questo, un libro che si intitola proprio delle meraviglie dell'India, dove si parla di questi animali straordinari, gli elefanti o i grifoni o le finici e la possibilità di andare lì e vengono date delle informazioni sulle capacità curative di questi animali e si cerca in ogni modo di viaggiare lì e c'è tanta gente che comincia a fare viaggi, non arrivano lì, arrivano magari dalla parte opposta del mare e dicono di essere in contatto però con gli indiani o con i persiani. Cominciano a diffondersi questi bestiari che parlano di questi animali meravigliosi, addirittura qui è evidente che un elefante in vita loro non avevano mai visto, gli fanno le zampe da leone all'elefante, lo fanno tutto quanto peloso, perché certamente derivava da racconti che venivano fatti dai mercanti, poi gli unicorni, le linci e così via. Si dice che lì, in queste terre così estreme, in India soprattutto, lì c'è la possibilità di essere assunti da vivi in cielo, il primo che ci aveva provato era Alessandro Magno, che era andato lì per quello, questo è un particolare del mosaico del pavimento della cattedrale di Otranto in Puglia, dove si vede Alessandro Magno che è arrivato, perché Alessandro Magno ha fatto tutto quel viaggio fino in India, perché sapeva che lì si poteva salire in cielo da vivi, quindi arrivato lì ha preso un carro, gli ha legato due grifoni alati e poi tenendo due spiedi con dei pezzi di carne in alto, questi grifoni alati per arrivare a prendere queste cose, hanno volato, solo che Alessandro Magno volando fino in cielo o niente, a un certo punto non ci è riuscito, perché Dio, perché Alessandro Magno era pagano, ha mandato una mosca, un tafano che appunto i grifoni che quindi hanno fatto cadere Alessandro Magno, che infatti si è ammalato, è andato a Babilonia e è morto, questa dice la storia medievale, in realtà la storia del volo di Alessandro Magno è rappresentata in tantissime immagini, eppure a Venezia nella Basilica di San Marco c'è una formella che la rappresenta, qui invece siamo in Francia, siamo a Veselè, sempre Alessandro Magno col carro, con i grifoni e così via. Poi si parla di Alessandro Magno, questo è uno shaknamè che in India aveva trovato l'albero wak wak, cioè l'albero che dava dei frutti, che come frutto dava delle donne bellissime, tant'è che Alessandro Magno ha colto di quei frutti e l'ha sposata, Rossane, era appunto questo frutto dell'albero wak wak. Il problema di questo frutto è che bisognava prendere queste donne quando erano mature e cadevano, perché se toccavano terra morivano, quindi dovevi stare lì sotto ad aspettare. Si chiamava wak wak perché queste donne quando erano mature facevano wak wak e cadevano, quindi questo è indicativo di questo. Questo sarebbe Alessandro Magno, dello shaknamè rappresentato come sovrano orientale, ma in realtà è lui. Ovviamente in queste carte, questa è una carta portoghese della fine del 300, dove siete appunto nell'estremo oriente il prete Gianni, eccolo qua, vedete rappresentato come un papa seduto così, qui vedete Magadoro, questo sarebbe uno dei capi musulmani più feroci, oltre il mondo musulmano nell'estremo oriente appunto il prete Gianni dell'India. Questo personaggio straordinario che avrebbe segnato veramente la differenza tra la storia, il mondo, il futuro dei cristiani d'Europa e l'Oriente. Questo è un dettaglio della stessa carta, sempre con la rappresentazione appunto della parte orientale, da cui appunto in tutte le varie storie anche qui sarebbero partiti i magi. In realtà questo mondo così lontano, l'India, la Cina, la Persia che stavano laggiù, sembrava un mondo lontano, irraggiungibile e invece cos'è accaduto? Quando arriviamo nella metà del XIII secolo, all'improvviso una parte di questo mondo sconfina e arriva fino alle porte dell'Europa, è l'impero di Gengis Khan, ma di questo parliamo la prossima settimana. Buonasera.